salve a tutti quanti ragazzi benvenuti in questo quarto episodio della dns pack tech pack quella lì e con noi c'è comunque di nuovo gabriele e slomito e beyond e beyond esatto allora ragazzi siamo pipistrelli perché dobbiamo andare giù a prendere diciamo il l'ossidiana quindi adesso io abbiamo un piccolo problema entra nel buco a centrarlo senza fammi prendere creeper corri scendete giù scendete giù creeper ecco te l'ho detto che sono stupidi allora vedete che materiale ancora qua serve l'ossidiana ed io metto la nostra turtle così facciamo vedere pure l'ossidiana come la scava in un atomo io si fa così io vado a rompere i coglioni ai creeper si fa sempre tunnel gli diamo un bel 50 e sbammetea e lui scaverà tranquillamente l'ossidiana va anche nella lava nella lava sta per cadere un creeper da 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 te ma si lascialo venire yeee morto sono stronzo con i creeper però questa lava non mi piace guarda che qui comunque c'è un quadrato di lava e cioè dove c'è l'oro quella cosa lì non so che cosa è quel materiale c'è proprio una stanza piena di lava quindi se tu gli putti l'acqua sopra sarebbe anche meglio con un secchio lo so ma adesso sto seguendo la turtle così nel frattempo scava vedi ho lasciato le torce a casa ma ce le ho io allora metti luce ciao Grazie per la visione! 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 Comento così! Grazie per la visione! È la visione di Instagram! ической Ming kiss! Sì di ègettryingauth! Undoüng시 nel livellofondo! Sangria Dice! Grazie di Split! Grazie alguna kinda! Grazie d'aere! Sangria Dice di lungo! Non invece da un po' di ferro! Cioè vuoi farlo tipo così 1,2,3,4 e sopra questo Questo colore? Ottimo Però qua ci sono le fornace Vabbè che disturba Vabbè no no dopo togliamo tutto qua E sono solo provvisorie Hai bisogno di mangiare qualcosa? No no Ho Ho una slime ball Quindi lo facciamo di 4? Vai di 4 E questo coso giallo cosa lo lasci nel muro? Cioè lo vuoi mettere come tipo bordo? O lo vuoi togliere? No soltanto la colonna lì E dopo faremo tipo le porte Qualcosa ci inventeremo Vabbè ve lo dico anche per te per i macchinari Nel senso che se tu per esempio devi fare i macchinari Un pochettino più alti 4 e basta No no per i macchinari Faremo una stanza anche sotto Senza problemi Ok Qua mettiamo soltanto La M Ci andrà Devo farmi l'ascia di qualcosa Perché non posso spaccare il legno Con la Con la mani Tieni Prendi questa Vabbè Ah grazie Ce n'è una anche tu o non ce l'hai? No no tranquillo Ma perché non fa direttamente in automatico come i picconi Tipo la La mod Cioè io quando finisco un piccone mi da subito un altro piccone Sì C'è Però Uguale Per la legna Dico per la legna Dico Beh teoricamente dovrebbe farlo A me non me l'ha fatto E quello è il fatto Ok ho fatto il primo muro Oddio sta diventando notte No Tranquillo c'è la luce Eh sì lo so Ma mi devo trasformare in pipistrelle altrimenti mi ammazzano Ah ma si ferma No 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 Eh che cavoli Qual è il tasto per vedere se ci sono Possono spawnare i mob Prima volta me ne dimentico F7 F7 ok Almeno una volta era F7 Sì Se ti servono torce ce ne sono dentro No vabbè era perché per essere più sicuri che magari Non spawnano mob e romperci le scatole Questa legna comunque si può trovare ancora o Perché l'ho già quasi finita Eh quella era l'eucalipto Vediamo se ho raccolto anche i sabling che non mi ricordo No perché possiamo usare le ossa di coso Di scheletro E farle crescere subito Non mi ricordo qual è il sabling dell'eucalipto Ok ho finito la legna Bene il mio viaggio finisce qui Abbiamo concluso la puntata Bene Ok torce Ecco le qui Allora Sì ragazzi dobbiamo Vedete queste linee gialle In pratica dicono Se i mob spawnano Se sono gialli È possibile che spawnano Se invece diventa rosso È sicuramente certo che spawnano Abbreviato Esatto Infatti io metto quello Ma diciamo che più che altro segue la luce Cioè dove non c'è luce I mob spawnano Dove sono arancioni C'è pochissima luce Quindi potrebbe anche spawnare qualche mob Esatto Il tetto come lo vuoi fare Tipo in vetro Boh come più ci pare piace Perché io adesso per esempio Perché per adesso Io Non è così la spirale Quale aspetta Questa qua Ah Ok Allora La linea dove la possiamo mettere Che così Sennò vado a casa un attimo Allora Punti Casa Teletrasportati Ce li abbiamo quei tipi di Di alberi Adesso ecco Quel pavimento che hai messo Qual è? Come si chiama? Il pavimento che ho messo è Perché io c'ho marble Quarried stone Aspetta dimmelo in italiano Non lo so Quarzo In inglese Quarried E' quello bianco comunque Numero 43 2.7 Aspetta che te lo vado a vedere Si 4.5.7 4.5.7 4.5 2.7 No aspetta Forse ho sbagliato io No aspetta dimmi il numero di nuovo La stone della railcraft Io mi documento sul numero 4.5.7 2.7 Ah eccola Guarda la sta scavando la turtle qua Ok Ok E si Ah e si trova Ok Allora prendo le ossa Così almeno se dobbiamo fare l'albero Gli alberi almeno facciamo più legna Ok Ne ho 53 Quindi io ho voglia Vendo anche il vetro Sennò dobbiamo tornare sempre Allora C'ho anche altro pane Così almeno Ma perché vedo il pipistrallo rosso e non lo posso Perché lo devi mettere con Ti ricordi con maiuscolo Devi cliccare maiuscolo e mettere No 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 Proprio Oddio Ho ucciso un enderman Ce ne sono altri due qua Hello Oh cavolo Mamma va la gente Che ti sto ammazzando io perché Grazie Mettiti un po' di luce no? No è lì Scava la turtle Ah Ecco che ha cominciato Ok Gli alberi invece tu non ce li hai Di quell'albero che hai preso Di colore verde Cioè che fa la legna verde Eh no Mi pareva che fossero Eh dell'eucalipto Mi pare Non me lo ricordo No siamo nella cacca Perché? No dico nel senso che Così Cioè li piantavo e facevo Le mettevo già le ossa Crescevano subito Mi pareva di averli preso Ma non lo vedo più Quindi Ragazzi Eccolo Ciao È passata la befana Non me ne sono mai accorto Ok Mi sono ritrovato Uno scatolone Di cioccolatini Bene E li hai già fatti fuori tutti? No no Che cavoli Gabriele Se io ti venissi un attimo a casa Nella casa nuova E ti dicessi che tipo di albero è Questa legna che abbiamo Che ha trovato Slomito Tu la sapresti ritrovare Sapresti dimmi qual è Sì Perché mi servirebbe un albero Io così con le ossa Lo faccio crescere subito Allora È la Fearwood Plants Questa qua verde No Ah Quella verde Si chiama Fearwood Wood Plant Lo sai che hai perso il cavallo Vero? No è qua il cavallo Vedo una corda Ho perso la corda Il guinzaglio Ma che hai fatto a perdere la corda? L'hai tolta tu? No Io sono passato adesso E ho visto che c'era la cordicella qui Eh Te l'ho recuperato io il cavallo Grazie Eh ma C'è un cavallo che sta scappando Sì appunto Vieni Lo sto portando alla base Beh Yond Ce l'ho io? Ma ma gliel'ho già messo Beh è calappiato Ok Eh Ok adesso ho bisogno che mi metti quell'albero però Perché così fa e metto il Eh Fearwood Wood Plant Io c'ho il buon meal Sicuro Cavalli Quanti cavalli Ma non basta con i cavalli Siete porno Basta Tutti che piacciono i cavalli Minchia C'è un cavallo C'è una persona che non ama i cavalli qua dentro Basta Perché non ti piacciono? Non ho detto quello Ho detto che non è per i fan Tutte le persone che guardano sto video Pensaranno ai cavalli Anche loro Guarderanno i cavalli Acacia Sarà un film di cavalli No 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 vai via Dove sei? Pissa via Sono quasi morto Questo è Oak Questo è Eccalyptus Ragazzi dove cazzo avete trovato quell'albero? Posso cercare di capirlo anch'io Gli ero chissà a lui Which Which wood Potrebbe? Dimmi come si chiama l'albero principale No è grande È molto grande È grande grande grande? No È grande grande grande? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.